Caro diario, tre mesi fa ho perso la memoria in un incidente autostradale. Mi chiamo Sara e sto riscoprendo attraverso le tue pagine chi sono stata. Mia mamma è sempre arrabbiata, non so perché torna a casa e urla, con me e mio padre. Lui piange, quando piange di grigni denti, sembra indifeso, non reagisce mai, mi sembra di non conoscerli. Chi sono queste persone? Chi sono? Caro diario, oggi ho conosciuto Marco, è un ragazzo che viene a scuola con me. Ci siamo subito trovati in sintonia, abbiamo parlato per ore e ore. Marco ha un sorriso bellissimo. Mi sono trovata così bene che non volevo più tornare a casa. Quando sono entrata nel nostro appartamento, ho visto mia mamma, lì, stessa sul divano, incosciente. Caro diario, dopo quella scena sono corsa tra le braccia di Marco. Non sapevo che altro fare. Lui mi ha tranquillizzata e mi ha fatta ridere. Sono stata così bene. Caro diario, oggi a scuola ho preso dieci in un tema. Parlava di mia mamma. Sono tornata a casa e gliel'ho fatto subito leggere. Mia mamma ha sorriso. È la prima volta che la vedo sorridere così. Nonostante questo, poggio le mie mani sul balcone scaldato da una giornata di sole intenso e scelgo di essere come una rosa appena tagliata, viva per l'ultima volta. Prima di appassire per sempre.